Allora dovrà portarci delle altre prove al riguardo. Al momento lei non ha modo per dimostrare di essere nordcoreano, vero? Io vi ho già detto com'è andata. Crede forse che mi sia inventato ogni cosa? Penso che ho tutto inventato. Non possiamo accettare ciò che avete detto sull'ospedale di Shionshim in cui avete venduto il corpo di vostra madre. Mi dispiace, ma è difficile accettare la sua dichiarazione iniziale sulla vendita del corpo di sua madre all'ospedale di Shionshim. E anche la dichiarazione che lei sia un disertore della Corea del Nord è alquanto difficile da dimostrare. E se decidiamo che le foto che ci ha fornito non sono una prova valida della sua nazionalità, allora lei verrà rimpatriato con la forza in Cina. Rimpatriato con la forza.